Ok, allora nome e cognome e cosa ti aspetti da questo viaggio? Allora, Ferrazio Teresa, mi aspetto di imparare tutto, un'esperienza e per me è anche un gioco. Come è andato il casting? Intendi come il casting finale? Sì. Ok, per me è perfetto, bene. Sei soddisfatta di questa esperienza? Sì, moltissimo. Cosa porti a casa di nuovo? Tutto, un sacco di notizie, un sacco di informazioni, non so, c'è una sensazione bellissima, quindi c'è tanta tanta informazione di tutti gli stili, di tanta esperienza anche di tutti i colleghi. Grazie. Prego. Ciao. Ciao.